e dei mercati. Avremo una notizia positiva a mio avviso. Saranno effettuate, questo emerge dalla ricerca Union Camere e Ministero del Lavoro, 595.000 assunzioni dalle imprese italiane a fine del 2011. Questo è il numero di assunzioni effettuate dalle imprese italiane. La notizia è particolarmente buona perché è un più 8% rispetto al 2010, anno difficile per carità. Ma la cosa interessante, ne parleremo, è il profilo di chi viene cercato. I laureati in economia sono sempre al top nelle richieste, da quando ha iniziato la crisi economica. E poi molto bene le domande per gli ingegneri e ancora bene anche i medici e comunque persone che hanno già avuto una loro esperienza. Agli ultimi posti ci sono invece psicologia, poi letteratura, storia e filosofia è la parte artistica con appena mille richieste da parte delle imprese. Ok, fine con le notizie in breve, partiamo con il primo tema che chiaramente...